Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Francesca Nava? Sono una giornalista d'inchiesta e una documentarista. Faccio questo lavoro da quasi 20 anni. Ho iniziato con la carta stampata e sono poi passata alla TV, lavorando per i principali canali televisivi italiani, da Sky TG24 a Mediaset, la 7 e infine Rai 3, dove attualmente lavoro come inviata per presa diretta. Ho lavorato per quasi un anno anche in Francia, a Lione, alla TV europea, Aeronews. Nel mio percorso professionale mi sono occupata molto di sanità, di immigrazione e di radicalizzazione terroristica. Ho ideato e diretto documentari indipendenti, l'ultimo si chiama Terroriste, zero e le altre, prodotto da Creative Nomads e distribuito da Fandango. È un documentario che parla di tre donne perseguitate e accusate di terrorismo dal governo turco di Erdogan. Da questo documentario è nata anche una graphic novel, un romanzo illustrato, di cui ho curato i testi, che racconta la storia della pittrice e giornalista kurda Zeradoan arrestata per un disegno. Questo volume fa parte anche di una collana di giornalismo illustrato al femminile, Donne sul fronte si chiama, edita da Raun Robin. E il volume scritto da me su Zeradoan, con le illustrazioni di Creative Nomads, uscirà in edicola a metà dicembre, con Il Fatto Quotidiano. A settembre, invece, è uscito il mio primo libro, Il Focolaio, da Bergamo al contagio nazionale, edito dalla Terza, che è già in ristampa. Cosa è accaduto nella Bergamasca e in Lombardia tra il 23 febbraio e fine marzo? Nella Bergamasca, tra fine febbraio e fine marzo, si è consumata una strage silenziosa. Sono morte 6.000 persone in meno di due mesi. Una su quattro è morta in casa o in un ospizio, senza assistenza, senza ossigeno, io dico senza dignità. Per settimane si sono diffusi dati distorti sul contagio e sul numero di morti, dati totalmente sottostimati. La mancanza di tamponi e di un monitoraggio degno di questo nome ha di fatto tenuto nascosta la reale entità di questo massacro. Per un mese esatto si è lasciato che il virus circolasse praticamente quasi indisturbato. Quando il 23 febbraio si sono scoperti i primi casi positivi al SARS-CoV-2, dentro all'ospedale di Alzano Lombardo, il Pesenti Fenaroli, un ospedale nel cuore della Valseriana, si è commesso l'errore più grave. Non si è fatto nulla per isolare il focolaio. L'ospedale è stato chiuso per poche ore, la sanificazione è stata fatta con degli stracci, come risulta anche dalle testimonianze degli addetti ai lavori, quindi operatori sanitari del pronto soccorso. Le persone non sono state identificate né tracciate e, cosa più grave, a partire dal tardo pomeriggio si è riaperto tutto, operatori sanitari e familiari dei pazienti sono stati mandati a casa, senza nessun tipo di tracciamento e senza essere tamponati. Dal giorno dopo chiunque ha potuto entrare e uscire dall'ospedale, si è persino continuato ad operare. Oggi sappiamo che al presidio ospedaliero di Alzano quel giorno c'erano solo 10 tamponi e che nei giorni successivi ne sarebbero arrivati solo 50 inviati dalla direzione generale di seriate. Un numero praticamente totalmente insufficiente per diagnosticare le oltre 600 persone tra pazienti e sanitari che andavano testati e isolati immediatamente. Aver riaperto e aver lasciato che decine di persone tornassero a casa ha di fatto scatenato catene di trasmissione che hanno fatto circolare il virus in tutta la regione e anche al di fuori della Lombardia. Nessuno infatti ha lanciato l'allarme, la parola d'ordine in quei giorni era niente panico. I fatti di Alzano Lombardo, ricordiamocelo, accadono due giorni dopo Codogno, il 23 febbraio e quello stesso giorno intorno a Codogno si crea una zona rossa, ovvero si isolano 10 comuni, si circondano che vengono circondati dall'esercito e si chiude tutto. Ad Alzano no, ad Alzano si lascia tutto aperto, fino all'8 marzo quando si chiude la Lombardia in una grande zona arancione, ovvero si chiude tutto tranne le fabbriche. Non chiudere le fabbriche in Lombardia e soprattutto in Valseriana, che è considerata la culla industriale della Lombardia, ha voluto dire lasciar circolare decine di migliaia di persone. In quella zona, abitata da poco meno di 100.000 abitanti, infatti lavorano almeno 30.000 addetti che fino al 23 marzo hanno potuto circolare perché erano autorizzati. Il vero lockdown infatti arriva solo il 23 marzo con il DPCM Chiuditalia, che chiude le attività produttive non essenziali, ma ormai per Bergamo e provincia e per la Lombardia intera è troppo tardi. E la dimostrazione sono i carri militari, che a partire dal 18 marzo sfilano davanti al cimitero di Bergamo, che non può più smaltire né cremare i corpi dei defunti. Per questa strage la procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo ed epidemia colposa. Al momento ci sono cinque indagati, tra cui il direttore generale e il direttore sanitario della SST Bergamo Est, che è l'azienda sociosanitaria da cui dipende l'ospedale di Alsano, il Pesenti Fenaroli. Secondo la magistratura, i due dirigenti, quindi Locati e Cosentina, accusati di epidemia colposa, avrebbero anche dichiarato il falso in atti pubblici rispetto proprio alla sanificazione del pronto soccorso e dell'ospedale di Alsano. Tra l'altro sul nesso di causalità tra la mancata chiusura dell'ospedale e la mancata zona rossa di Alsano e Nembro e l'incremento di mortalità nella Bergamasca è stato incaricato il professore Andrea Crisanti, a cui è stato affidato questo studio che sta realizzando, proprio per accertare se questo nesso di causalità esista oppure no. Per il capo degli industriali lombardi, Marco Bonometti, in Lombardia non si potevano fare zone rosse, non si poteva fermare la produzione. La ragione economica ha prevalso sulla salute? Ho intervistato il capo degli industriali lombardi a fine marzo. Senza troppi giri di parole ha ammesso che in Lombardia non si potevano fare zone rosse. Questo fatto, tra l'altro, mi è stato confermato anche dal direttore sanitario dell'ATS di Milano, Vittorio De Micheli, che nel libro Il Focolaio mi racconta proprio i dettagli di una riunione avvenuta la notte del 29 febbraio a Palazzo Lombardia, a Milano. Mentre era in corso questo vertice della Tax Force Lombarda, su al 35esimo piano, nell'ufficio del presidente Fontana, vengono illustrati dai tecnici i dati che da nove giorni la Tax Force Lombarda stava raccogliendo, proprio sull'intero territorio lombardo, i dati del contagio. Era chiaro già dal 29 febbraio che il virus era uscito dalla zona rossa del Lodigiano e galoppava già a Bergamo, a Cremona, a Brescia. Insomma, bisognava chiudere in fretta tutta la Lombardia, non solo la Valseriana. Ed è così che Fontana telefona a Bonometti, al capo degli industriali lombardi, mette la chiamata in viva voce e tutti i presenti alla riunione ascoltano questa telefonata. Fontana fa presente a Bonometti che tocca intervenire in maniera più drastica, che le misure prese non bastano. Ricordiamo che a quei tempi la Lombardia era solo zona gialla. Ma Bonometti risponde che non si può chiudere e che lui ha la Jaguar in produzione. Ecco, io credo che un industriale possa anche difendere la propria attività produttiva, sebbene lo trovi personalmente disdicevole in un contesto di questo tipo. Quello che non trova giustificazioni, a mio avviso, è che un politico consapevole della gravità della situazione della propria regione decida di non intervenire immediatamente a tutela della salute, che è quello che poi di fatto è successo, e si lasci condizionare dalle richieste, dalle obiezioni del capo degli industriali. L'economia ha certamente prevalso sulla salute in Lombardia, su questo non ho nessun dubbio. La politica regionale sapeva, aveva i dati, poteva e doveva intervenire. Di fatto c'è una legge che glielo consente, la legge 833 del 1978, che è la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Quando il governo ha saputo che la situazione in Lombardia era fuori controllo, era di fatto già tardi per intervenire con una zona rossa circoscritta solo ad Alzano e Nembro, e ha a sua volta tentennato, perché chiudere un polmone economico d'Italia, ovvero la Balseriana, o addirittura chiudere l'intera Lombardia, che era quello che ormai a marzo bisognava fare, non conveniva più a nessuno a livello di consenso politico. Ed è così che per giorni abbiamo assistito a un patetico teatrino dello scaricabarile che ha portato la Lombardia a restare aperta di fatto fino al 23 marzo, che è il giorno in cui si decide finalmente di chiudere anche le fabbriche. Per giorni io personalmente sono andata avanti interrogando governo e regione per sapere a chi spettasse il compito di chiudere e di creare una zona rossa in Lombardia e perché si fosse intervenuti così tardi e in modo così poco drastico. Ma Fontana non mi ha mai risposto, mentre il premier Conte, quando l'ho incontrato in prefettura Bergamo a fine aprile, ha saputo darmi una risposta assolutamente puerile. Mi ha infatti detto quando sarà lei al governo, gli scriverà lei i decreti. Ecco, io credo che quando la politica esaurisce i propri argomenti, risponde con battute infantili, puerili, che spiazzano. Nel senso, io mi sono sentita veramente spiazzata da questa risposta. Tra l'altro Conte, qualche settimana prima, aveva risposto a una mia mail, scaricando tutta la responsabilità sul Presidente della Regione Lombardia, su Fontana, dicendo che se la Lombardia avesse voluto avrebbe potuto tranquillamente creare una zona rossa. Fatto che, tra l'altro, diciamo, di cui viene a conoscenza anche lo stesso assessore regionale Gallera, che in diretta TV ad Agoram, lo ricordo perfettamente, ammette di aver controllato e di aver di fatto verificato che la legge 833 del 78, cioè la legge che istituisce il servizio sanitario di cui lui si occupa, di cui lui è titolare in Lombardia, bene che questa legge gli dava a Regione Lombardia la facoltà di chiudere, di creare una zona rossa. Ecco, io credo che tutto questo sia uno spettacolo abbastanza indecente e surreale che ha visto appunto la Lombardia al centro anche di una serie di polemiche, a mio avviso diventate poi nel tempo anche quasi tragicomiche, perché tutto questo gioco dello scaricabarile di fatto si è poi giocato sulla pelle di migliaia e migliaia di persone. L'assenza di una medicina territoriale in Lombardia è il risultato di una precisa scelta politica? Il modello sanitario lombardo ruota intorno all'eccellenza ospedaliera e questo lo sappiamo. E' pur vero che se si decide di investire tutto nei grandi ospedali è ovvio che ci si dimentica del territorio. In Lombardia la prevenzione è stata praticamente dimezzata negli ultimi vent'anni e si sono trasformate le ASL in ATS, in ASST ospedali, cioè si è spezzata la sanità in questi appunto due enti, in queste due entità che però non comunicano tra di loro, hanno dimostrato di non comunicare soprattutto in questa fase emergenziale pandemica. Proprio durante la prima ondata è mancata di fatto una regia, è mancato un canale di comunicazione tra ospedali e territorio. I medici di base sono stati travolti, abbandonati, contagiati, molti sono morti. Nelle terapie intensive lombarde si è avuta una mortalità altissima, più alta della media nazionale perché i pazienti covid ci sono arrivati in terapia intensiva quasi in fin di vita e questo perché è mancato un filtro sul territorio. Tu mi chiedi se questo sia il risultato di una scelta politica. Bene, io ti rispondo sì, scegliere di non investire sulla prevenzione che lo sappiamo non fa rumore e non porta voti è una scelta politica perché invece di investire sugli ospedali che sono invece grandi centri di potere e invece appunto investire anche sulle cure che creano anche un grande bacino di voti e di consensi tutto questo è una scelta politica che per oggi paghiamo in termini di vite umane. In Lombardia di fatto la parola d'ordine è curare meglio che prevenire ed è così da anni la prevenzione ovviamente diminuisce il profitto in un sistema in cui pubblico e privato non sono di fatto sullo stesso piano perché il privato convenzionato in Lombardia drena il 40% del finanziamento pubblico alla sanità ma non investe sulla prevenzione cioè ad esempio non tutti i privati convenzionati hanno un pronto soccorso o un numero sufficiente di letti in terapia intensiva ecco questo ci fa capire perché se si è arrivati anche a un tale collasso del sistema sanitario Lombardo E il ruolo degli amministratori locali? Penso a slogan quali Bergamo is running e Milano non si ferma Gli amministratori locali hanno avuto responsabilità gravissime soprattutto durante la prima ondata alcuni di loro hanno fatto pubblica ammenda hanno chiesto scusa penso al sindaco di Bergamo Gori al suo omologo quello di Milano Sala tuttavia oggi sappiamo quanto le parole di chi governa possano avere un peso delle conseguenze gravissime nefaste e spesso non basta chiedere scusa quest'estate abbiamo visto che si sono ricommessi gli stessi errori la stessa superficialità si è vista è stata manifestata magari non da parte delle stesse persone ma diciamo a questo punto poco importa perché non può un politico o uno scienziato comunicare informazioni schizofreniche all'opinione pubblica perché poi basta un niente e ovviamente le persone si sentono libere in qualche modo di dimenticarsi che siamo ancora dentro a un'emergenza a una pandemia c'è stata molta leggerezza e purtroppo vedo che questa tendenza persiste anche ora durante la seconda ondata il governo centrale come si è comportato durante la prima ondata il governo centrale durante la prima ondata si è fatto trovare completamente impreparato abbiamo scoperto che non è mai stato aggiornato il piano pandemico fermo al 2006 non è mai stato fatto uno stoccaggio di pi di mascherine di camici di guanti in Lombardia ad esempio sono stati liberalizzati i tamponi solo a fine maggio per mesi e oltre forse farsi un tampone in Lombardia è stata un'impresa titanica questo governo diciamo che paga il prezzo anche degli errori di programmazione dei governi precedenti dei governi passati che hanno tagliato sulla sanità e hanno di fatto sbagliato a programmare anche per esempio il numero di medici e di infermieri che il sistema avrebbe necessitato al momento poi del pensionamento che è quello che stiamo vedendo che sta accadendo di oltre 30.000 operatori sanitari cioè sono molti di più quelli che ovviamente escono a causa della gobba pensionistica di quelli diciamo delle nuove leve che entrano proprio per il discorso e per il problema dei numeri chiusi delle università oggi ci troviamo in una situazione paradossale in cui in piena emergenza non si riescono a trovare specialisti ma nemmeno semplici infermieri o tecnici di laboratorio e questo è un problema strutturale che ci trasciniamo da anni frutto di errori commessi non solo da questo governo ma anche da quelli passati diciamo che questo governo ha una grossa responsabilità ha pensato che la seconda ondata non arrivasse e non fosse così violenta e ha perso mesi preziosi Bergamo è la tua città natale puoi raccontarci quando hai deciso di convogliare il tuo lavoro giornalistico in un libro? ho iniziato praticamente da subito a ricevere notizie di prima mano quindi diciamo già da febbraio su quanto stava accadendo a Bergamo dentro agli ospedali e dentro anche alle case quindi nelle famiglie ho sentito immediatamente l'urgenza di denunciare soprattutto dopo aver parlato a lungo con un medico di base che mi ha raccontato insomma qualcosa che non stavo leggendo sui giornali e non vedevo scritto da nessuna parte tuttavia mi sono anche chiesta se fosse giusto sollevare dubbi anche così pesanti in una fase insomma anche così critica in una fase così dolorosa poi ho di fatto deciso e ho iniziato a pubblicare per settimane ho scritto e pubblicato praticamente senza sosta su TPI The Post Internazionale ho tirato fuori e ho pubblicato molte notizie riprese anche da tutta la stampa italiana poi diciamo che a un certo punto mi sono accorta che dovevo fermarmi che si stava di nuovo cercando di rimuovere e di lasciarsi c'era questo diciamo tendenza c'era questa propensione a lasciarsi anche gli errori un po' alle spalle e a dimenticare quello che era successo mentre invece sentivo forte l'urgenza di stabilire e in qualche modo di ricostruire anche le responsabilità di tutta la catena di comando le responsabilità di tutta questa sofferenza di questo dolore che vedevo insomma davanti davanti ai miei occhi parlando anche con con le tantissime persone con cui sono entrata in contatto in questi mesi allora ho deciso di smettere di pubblicare ho continuato però a indagare a studiare a fare diciamo indagini e interviste ad esempio ho intervistato il direttore medico dell'ospedale di Alzano Lombardo che ha rilasciato diciamo praticamente solo a me l'unica intervista che io infatti metto e riporto nel libro ed è appunto Giuseppe Marzulli il direttore medico che è colui che inizialmente si è rifiutato e si rifiutò di aprire il pronto soccorso di Alzano ecco quella intervista è stata per me uno spartiacco e mi ha fatto capire molte cose proprio sulla catena di comando ed è lì che ho sentito che dovevo in qualche modo scrivere un libro e dare a tutte le testimonianze che avevo raccolto e a tutti i passaggi che avevo ricostruito il giusto spazio anche per permettere al lettore di avere un quadro completo ad esempio un passaggio a cui tengo molto che è un capitolo del libro è proprio quello relativo alla composizione industriale della Valseriana che nel libro illustro con dati raccolti anche grazie al lavoro della fondazione Claudio Sabatini di Bologna e al ricercatore Matteo Gaddi poter dire esattamente poter riportare esattamente il numero di persone che hanno potuto circolare hanno lavorato in piena pandemia nell'epicentro del contagio cioè in Valseriana è stato qualcosa di estremamente importante a mio avviso anche perché di lì a poco a fine giugno anche l'ISTAT ha certificato poi il nesso tra contagio e mobilità tra incremento di mortalità e pendolarismo insomma informazioni e dati cruciali che sono contenta anche di aver messo in un libro incastonati in un racconto scritto quasi in presa diretta quindi frutto di sicuramente di un mio travaglio interiore molto molto sofferto io ho pianto moltissimo scrivendo questo libro ho passato giorni interi chiusa in casa da sola quarantenata lontana dalla mia famiglia da mio figlio ho un figlio piccolo e ho pianto per giorni senza quasi riuscire a scrivere poi a un certo punto ho come fatto come sentito un click dentro di me mi sono si è sbloccato qualcosa e il libro diciamo che si è quasi scritto da solo e l'ho praticamente scritto in meno di due mesi dopo oltre ventimila decessi cosa resta oggi del cosiddetto modello Lombardia il modello Lombardia è lì fermo immobile a rivivere lo stesso incubo della prima ondata con la differenza che ora ad essere colpite non sono più le zone per esempio di Bergamo e Brescia ma sono quelle di Milano di Monza di Varese il nord ovest diciamo che cambia la zona del contagio ma il problema resta gli ospedali sono praticamente collassati i medici e gli infermieri mancano quelli che restano in prima linea a combattere sono esauriti frustrati arrabbiati perché ancora una volta il carico di questa seconda ondata è ricaduto sulle loro spalle e questo è diciamo sciagurato e ingiusto perché tutto intorno di fatto si sono resi conto che non c'è nulla non è stato fatto nulla in questi mesi non sono state create strutture covid dedicate non si è investito sul tracciamento e sul monitoraggio non si è fatta formazione del personale oggi ci troviamo in terapia intensiva trasferiti infermieri o medici da altri reparti che non hanno la specializzazione per assistere diciamo pazienti acuti in terapia intensiva quindi intubati vediamo che per diciamo distribuire all'opinione pubblica la narrazione anche degli ospedali in fiera di Milano e di Bergamo si sono di fatto diciamo trasferiti medici e soprattutto rianimatori da altri reparti ma questa è ovviamente una strategia a somma zero perché si sono messi i rianimatori e infermieri su dei letti di terapia intensiva diciamo dentro a reparti astronave completamente staccati da un ospedale quindi parlo degli ospedali in fiera e si sono lasciati sguarniti invece reparti di terapia intensiva in altri ospedali che in questo momento stanno soffrendo tra l'altro in Lombardia ci troviamo di fronte anche al paradosso che nemmeno i vaccini anti-influenzali sono diciamo la regione è stata capace di ordinare nei giusti quantitativi quindi oggi i medici di base si trovano a dover fare delle scelte su chi vaccinare e chi no tra le categorie diciamo cosiddette a rischio la stessa scelta di fronte alla quale si trovano anche i medici a dover scegliere chi curare e chi no tutto questo perché i servizi territoriali sono di fatto inesistenti le usca molte usca diciamo non sono neanche mai partite delle 200 necessarie in Lombardia ce ne sono poco più forse di 50 60 insomma davanti ai nostri occhi oggi c'è tutta l'inadeguatezza del sistema dell'eccellente modello lombardo purtroppo è triste constatare come la lezione di Bergamo non sia servita a nulla siamo riusciti ad arrivare alla seconda ondata nuovamente impreparati e questa volta diciamo senza nessuna giustificazione il modello Lombardia tuttavia non si cambia in tre mesi serve un lungo percorso serve aprire anche un dibattito un momento anche di riflessione profondo anche di dibattito politico c'è sul tavolo la legge 23 del 2015 che è praticamente scaduta scade tra pochi giorni a fine anno e che va non solo revisionata e rivista ma va a mio avviso completamente ribaltata quella filosofia alla base di quella legge e soprattutto diciamo che serve la volontà politica di mettere in discussione questo modello quindi bisogna capire se si vuole puntare sulla prevenzione sulla formazione del personale sanitario sulla stabilizzazione ma prima di ogni altra cosa serve anche diciamo avere una classe dirigente preparata e competente bisogna innanzitutto levare la politica dalla sanità a mio avviso e mettere in politica gente diciamo più gente preparata e che ne capisca di sanità e abbia anche una visione da qui ai prossimi 10-20 anni quindi senza lottizzazione sappiamo che la lottizzazione e le nomine politiche in sanità sono diciamo un modus operandi ormai che fa parte ormai del DNA di quel modello sanitario non solo lombardo tra l'altro mi duole dirlo è ovvio che questo ad oggi sembra quasi un'utopia quello di levare comunque il sistema della lottizzazione tuttavia questo è il nodo che è venuto un po' al pettine in questi mesi di emergenza pandemica o diciamo ci si avvia verso una costruzione di un sistema sanitario che si prenda cura dei pazienti quindi con cure e con una medicina di prossimità con un'assistenza anche domiciliare attenta e che in qualche modo faccia arrivare in ospedale i pazienti solo quando veramente è necessario dopo aver fatto comunque tutto il possibile per curarli a casa oppure credo che ci troveremo di nuovo a capo quindi in attesa del vaccino e quindi diciamo della cura a questo virus ci troveremo in qualche modo a dover affrontare probabilmente una terza o una quarta ondata dovendo di nuovo parlare di lockdown di blocco dell'economia e di collasso del sistema sanitario quindi a fare di nuovo quella dolorosa scelta tra economia e salute che io mi auguro diciamo non debba più essere fatta che io mi auguro che io mi auguro che io mi auguro che io mi auguro